Salve! Prepariamo insieme oggi due creme basi della pasticceria, la crema ganache e la crema pasticcera. Vediamo che ingredienti ci occorrono. 30 g di burro, 200 g di cioccolato fondente, granella di pistacchi, 200 ml di panna che oseremo per montare, 200 ml di panna. Per la crema pasticcera, 100 g di zucchero semolato, la buccia di un limone, 4 tuorli, mezzo litro di latte fresco e 30 g di farina. Delle uova ci occorreranno solo i tuorli che verranno montati con lo zucchero. Iniziamo con la crema pasticcera. Aggiungiamo la farina salsiacciata. Grattogiate la buccia di limone nel pentolino con l'acquitel. Gritiamo il cioccolato. Una volta che il latte sarà arrivato a bollore, lo aggiungiamo al composto dei tuorli precedentemente montati. Abbiamo unito gli ingredienti a freddo per evitare la formazione dei grumi. Rimettiamo tutto nel pentolino sul fuoco. La nostra crema pasticcera è pronta. Ora la lasceremo freddare in frigo con della pellicola a contatto. Montate la panna che diventerà poi un elemento decorativo. Lasciate riposare la vostra panna montata in frigo intanto che prepariamo la ganache. Per la crema ganache mettete sul fuoco i 200 ml di panna restanti e i 30 g di burro. Aggiungiamo il cioccolato tagliato a pezzetti. Una volta tralassata la ganache in un contenitore lasciamola raffreddare in frigo. Per la composizione delle coppette ho utilizzato la sac à poche. Aggiungiamo il cioccolato tagliato a pezzetti. Decolate le coppette come più vi piace. Arrivederci e alla prossima puntata.